Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Paola Baldovino e sono il difensore civico della regione Piemonte. Il difensore civico è un organo di garanzia della regione ed è preposto alla tutela della legalità e della regolarità amministrativa. Con il suo intervento assicura il pieno rispetto dei principi costituzionali che governano l'azione amministrativa e offre tutela nei casi di cattiva amministrazione a tutti i cittadini. La difesa civica costituisce una forma di tutela precontenziosa, intervenendo ogni qualvolta il cittadino si trovi in difficoltà nel dialogare con uffici dell'amministrazione regionale, compresi quelli degli enti strumentali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, o si imbatta in disfunzioni, inefficienze, disservizi o discriminazioni. In tutti questi casi il difensore civico, appurata alla fondatezza della segnalazione, interviene facilitando in tal modo le relazioni fra uffici e cittadini e prospettando possibili rimedi al fine di correggere l'azione amministrativa. Il difensore civico agisce esclusivamente attraverso la cosiddetta moral suasion, essendo privo di poteri coercitivi. Aspetto questo che costituisce il vero punto di forza della difesa civica, poiché il difensore civico, a differenza degli organi giurisdizionali che devono necessariamente rimanere nei confini della legittimità, può spingersi ad esaminare l'opportunità, la convenienza, l'equità di alcune scelte adottate dalla pubblica amministrazione. L'azione del difensore civico si mostra quindi più flessibile, duttile e, se vogliamo dire, anche più creativa delle sue modalità di intervento e, in definitiva, più vicina ai bisogni delle persone. La difesa civica, perciò, contribuisce a migliorare l'azione amministrativa e concorre a rendere più efficiente la pubblica amministrazione che, a seguito dei suggerimenti e dei rimedi evidenziati dal difensore civico, può correggere il proprio agire adottando comportamenti virtuosi al fine di garantire una buona amministrazione. Inoltre, l'attività di difesa civica svolge anche un importante ruolo deflattivo del contenzioso giudiziario con notevole vantaggio per tutti gli attori di una potenziale controversia, vantaggi sia in termini economici che in termini di tempi necessari per definire i procedimenti. E questo effetto deflattivo emerge in particolare nell'ambito dell'esercizio della funzione di riesame che il difensore civico svolge in merito alle determinazioni di diniego, anche solo parziali o di differimento, espresse da amministrazioni comunali, provinciali o regionali in materia di accesso documentale o di accesso civico generalizzato. Recentemente, il legislatore piemontese ha attribuito al difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute, istituto a cui intendo dare ampio sviluppo essendo la sanità un settore delicato e importante per l'intera collettività piemontese, soprattutto a seguito dell'emergenza sanitaria. E credo che tale funzione vada esercitando, stabilendo con la pubblica amministrazione un dialogo costruttivo e proficuo, dal quale possano derivare risposte alle segnalazioni che ci vengono trasmesse. Ed è per questo che è stato dato l'avvio ad un'interlocuzione con l'assessorato alla sanità al fine di sottoporre all'attenzione degli uffici le segnalazioni che ci vengono trasmesse dai cittadini, così da trovare una soluzione alle problematiche più ricorrenti e di interesse generale per la collettività. Vi ricordo che l'istituto è assolutamente gratuito, privo di formalità e quindi accessibile a chiunque e le vostre segnalazioni potranno essere inviate tramite post ordinaria presso gli uffici del difensore civico che si trovano in piazza Solferino 22 a Torino, oppure compilando il modulo pubblicato sul sito del Consiglio regionale all'indirizzo www.cr.piemonte.it ed inviarlo agli indirizzi di posta elettronica ai vindicati. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Se vuoi condividere la tua vita con un cane o un gatto, devi ricordarti che la tua deve essere una scelta consapevole e compatibile col tuo stile di vita. Introdurre nella tua vita un cane o un gatto è una grande occasione di conoscere un mondo affascinante ed è una grande occasione di aprire una finestra verso la natura. In maniera consapevole significa semplicemente vedere se il tuo stile di vita permette di condividere il tuo mondo con quello dell'animale che sceglierai di introdurre nella tua abitazione e nel tuo modo di vivere. Molte volte questa scelta è una scelta che viene dettata da mode, da consigli sbagliati o in alcuni casi è il frutto di un regalo. Gli animali non si regalano, gli animali si scelgono e per sceglierli bisogna ricordarsi che dobbiamo mettere in campo alcune cose. La prima è quanto tempo abbiamo da dedicare a loro, quanto tempo abbiamo da dedicare a loro nel modo in cui loro vogliono vivere, perché io posso anche pensare di dedicare al mio cane molte ore mentre gioco al computer, sono sul divano, guardo la televisione, ma credo che nessun cane faccia questa scelta in autonomia e decida di stare in casa piuttosto che andare a correre nei prati o giocare con noi o con altri animali. Quindi prima di fare la scelta bisogna che ci chiediamo alcune cose. La prima è quanti anni abbiamo. Gli animali non vengono, anche per legge, dati, intestati a minorenne, quindi non si regala un bambino o un cane. Il responsabile di un animale è sempre un adulto. Questo adulto però deve chiedersi alcune cose. Quanto tempo ho? Quanto sono disposto a cambiare i miei stili di vita? Ma anche quanto sono disposto a conoscere rispetto all'animale che metterò nella mia casa o introdurrò nella mia vita? Questo tipo di domande che esigono delle risposte ci portano a capire non solo le nostre esigenze, ma qual è la compatibilità tra la nostra vita e l'animale che eventualmente vogliamo incontrare. Ma non è un incontro casuale, non è un incontro temporaneo, è un incontro per molti anni. La incompatibilità tra gli esseri umani e gli animali che vengono introdotti nelle nostre abitazioni è la causa maggiore degli abbandoni, oppure delle cessioni. Quindi scelta responsabile e compatibilità vuol dire un incontro felice e duraturo. Ricordiamoci che gli animali molte volte supportano situazioni difficili, ma molte volte ci danno dei segni di sofferenza o di disagio. Questi segni di sofferenza e di disagio si traducono poi in manifestazioni chiare, palesi. Gli animali non mangiano, rosicchiano le cose della casa, i mobili, i tappeti, gli abiti, le scarpe. Si comportano in maniera strana, non reagiscono o addirittura hanno autotraumatismi. Ricordiamoci che non si può uscire di casa e spegnere il cane come fosse un televisore e riaccenderlo quando si torna a casa. Lui ha bisogno di spazi ma anche di attività da fare. La razza, il tipo di cane, le dimensioni, sono tutte cose che devono essere valutate con attenzione. Perché il prezzo da pagare è poi quello di un disagio che si crea tra le persone e gli animali. E questo disagio è frutto di sofferenze sia da parte degli uni che da parte degli altri. Quindi ricordiamo, se vuoi vivere con un cane o con un gatto, devi essere un proprietario consapevole. Buongiorno a tutti, mi chiamo Ilenia Serra e sono la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha il compito principale di far conoscere i diritti dei bambini e dei ragazzi sia agli adulti di riferimento ma sia soprattutto ai titolari di questi diritti, cioè alle persone di minore età. E un altro compito importante del Garante è quello di verificare la concreta attuazione di questi diritti all'interno della nostra Regione. Come fa il Garante a verificare questo? Lo fa sia in termini più generali attraverso la partecipazione a tavoli istituzionali e regionali sulle varie tematiche che riguardano i diritti delle persone di minore età, quindi il mondo della scuola, il mondo dello sport, della salute, del benessere psicologico, i minori ristretti, i minori con disabilità, i minori che vivono fuori famiglia. E un altro strumento fondamentale è quello delle segnalazioni, perché chiunque può rivolgere una segnalazione al Garante regionale per segnalare appunto la violazione di un diritto di una persona di minore età. Le segnalazioni sono uno strumento importante perché delineano proprio la figura del Garante come un ponte tra i bambini e i ragazzi e le istituzioni regionali. Aiutano a far comprendere la situazione della nostra Regione in un determinato periodo storico e consentono quindi anche alla figura di garanzia di farsi portavoce delle esigenze che pervengono al proprio ufficio direttamente agli organi regionali competenti che hanno il potere di intervenire. Le segnalazioni in questi tre anni di mio incarico sicuramente sono aumentate molto di numero e di complessità ma quello che purtroppo è rimasto invariato è il numero davvero molto molto basso di segnalazioni da parte dei minorenni. Nonostante la legge istitutiva preveda che anche una persona di minore età possa rivolgere un'istanza al Garante le segnalazioni in questi anni sono sempre state veramente pochissime. Ed è proprio per contrastare questo fenomeno che è nato il progetto Children Digicore, progetto europeo che ha creato un'app, quindi un'applicazione, uno strumento a misura di bambino attraverso cui è possibile segnalare le violazioni di diritti propri o di terzi al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte. È uno strumento innovativo dove la segnalazione rappresenta però soltanto l'atto finale di un percorso di consapevolezza che il ragazzo deve aver avuto. Innanzitutto la consapevolezza di avere dei diritti, poi la consapevolezza di quando una determinata azione o un'omissione anche possa costituire una violazione di questo diritto e infine la consapevolezza che nonostante non si abbia ancora raggiunto la maggiore età è comunque possibile segnalare ad una autorità. Segnalare, chiedere aiuto per una situazione che ci può provocare un turbamento, per una situazione che al minore non piace, una situazione propria ma anche di un proprio compagno di ubanco, di un proprio amico, di un proprio vicino di casa. E questa consapevolezza non è così scontata, non lo è negli adulti e lo è ancor meno nei confronti ovviamente dei minori che vanno quindi aiutati e supportati proprio da noi adulti. La segnalazione però è un modo molto importante attraverso il quale il minore prende consapevolezza e decide di avere un ruolo attivo o nella propria vita o appunto nella vita di un proprio pari. attraverso quindi un percorso guidato questa applicazione consente ai ragazzi innanzitutto di visionare appunto alcune casistiche di violazione dei propri diritti consente di fare una segnalazione sia con i propri dati sia in maniera anonima e consente quindi di chiedere aiuto appunto al garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Piemonte. Uno strumento quindi innovativo e noi crediamo appunto assolutamente efficace per rendere i bambini e i ragazzi maggiormente protagonisti della propria vita. Grazie a tutti. Buongiorno Buongiorno a tutti Sono Alessandro Merletti e sono il sindaco di Sangano un paese di 3700 persone all'inizio della Val Sangone e quindi è considerato la porta della Val Sangone La Val Sangone è una valle piccola, chiusa, che comprende sei comuni Sangano, Trana, Reano, Giaveno, Val Gioie e Coazze Il nome Sangano arriva circa dal 750, dagli anni 750 e prende il nome dal fiume e il Sangone e poi si è ammodernato fino a diventare Sangano Sangano ha tre santi protettori che sono solutori ad Eventore e d'Ottavio e questi hanno scritto la storia del castello e dell'abbazia è un paese prettamente agricolo dove la parte dell'agricoltura la fa da padrona e abbiamo in questo momento ereditato dal Demagno una grande expolveriera di circa 50 ettari che, come vi racconterà l'assessore ci stiamo preparando a presentare come un parco etico a tutta la popolazione, a tutti i cittadini dei territori vicini Il nostro comune è un comune bellissimo tra le cose bellissime che abbiamo c'è proprio la polveriera di Sangano la ex polveriera di Sangano che noi abbiamo acquisito dal Demagno militare intorno all'anno 2019 la polveriera nasce verso il 1935 quando il Demagno militare decide di costruire qui un grosso insediamento una grossa area finalizzata a fare da magazzino per le munizioni militari dopo diversi anni e diverse vicende anche di natura storica nel corso della guerra oggi la polveriera ci è stata restituita e il comune sta lavorando proprio per realizzare un parco che abbiamo deciso di dover essere un parco etico che cosa vuol dire parco etico? vogliamo realizzare attività che restituiscano quest'area verde alla nostra popolazione che la restituiscano alla collettività a cui appartiene e per fare questo abbiamo coinvolto il Politecnico di Torino, l'Università, diverse facoltà la Facoltà di Agraria e molti altri soggetti e istituzioni piemontesi oggi quello che cerchiamo di fare con l'aiuto di tutti compresi i privati e compresi i cittadini è quello di immaginarci una nuova vita per il parco che possa diventare il cuore del nostro comune quindi il cuore di Sangano e della collettività della comunità dei sanganesi una iniziativa che sicuramente si sposa con un'altra delle iniziative del comune che è la creazione di una comunità energetica di energia rinnovabile che oggi è decisamente un tema importante anche perché l'idea dell'etica deve conciliarsi con l'idea dell'ambiente con l'idea del risparmio energetico e quindi la nuova vita della polveriera sarà anche un nuovo inizio per Sangano e un investimento per tutti i cittadini diciamo perché devono venire a trovarci devono venire a trovarci anche perché abbiamo un grandissimo e bellissimo acquedotto che porta l'acqua a Torino della SMAT è un acquedotto che è sui comuni di Sangano e di Villarbasse quindi saluto il sindaco di Villarbasse nostro amico e coproprietario dell'acquedotto è un acquedotto che ha circa 250 anni e da allora non è ancora mai stato toccato e quindi invito tutti a venire a trovarci in occasione della fiera che tutti gli anni teniamo e che darà la possibilità, aprendo l'acquedotto, ai visitatori di vedere questa bellezza grazie a tutti arrivederci i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione grazie a tutti grazie a tutti